Ciao ragazzi, oggi voglio rispondere ad una domanda che mi viene fatta spessissimo sia sulla fanpage di Facebook sia su quella di YouTube. Dopo quanto tempo si riesce a trovare lavoro a Londra? Le statistiche dicono che ci vogliono circa 2-3 settimane se si ha poca esperienza, ma ovviamente ci sono anche le eccezioni alla regola. Ho conosciuto davvero tante persone, così come me, che arrivate a Londra dopo pochi giorni sono riusciti a trovare lavoro, altre invece dopo un mese per esempio. Se venite a Londra ed avete poca esperienza, ma avete veramente tanto spirito di sacrificio e adattabilità, vedrete che trovare un lavoro sarà un gioco dai ragazzi. Non temete. Per chi invece è difficilmente adattabile, il discorso potrebbe cambiare, i periodi si potrebbero anche allungare un poco. Se cercate maggiori informazioni su Londra vi consiglio di consultare il blog di Living London Way. Oppure, se volete, potete scaricare anche gratuitamente una mini guida dove troverete tutte le informazioni più utili se state pianificando di venire oltre manica. Ovviamente tutti i link li trovate in descrizione nell'info box. Prendete in mano le redini della vostra vita. Siate voi gli artefici del vostro destino. Prendete in mano le redini della vostra vita.